Sarà l'area da campagna elettorale che inizia a farsi sentire ogni giorno di più oppure il fatto che quella della ricostruzione delle frazioni dell'Aquila è realmente uno dei nervi scoperti dell'amministrazione Cialente fatto sta che il Partito Democratico avvia una sorta di operazione verità sulla rinascita delle 13 frazioni del capoluogo Il capogruppo Democrat in Consiglio Comunale Stefano Palumbo è eletto proprio nella frazione di Roio e effettua una sorta di cronistoria del blocco riconosciuto della ricostruzione delle frazioni Diverse cose non hanno funzionato tant'è che posso affermare, leggendo appunti dati che la ricostruzione delle frazioni è partita nel marzo del 2015 nel 2013 si è usciti dal commissariamento e la filiera non aveva istruito nessuna pratica nel 2014 entrammo in uno scontro feroce con l'allora responsabile dell'ufficio speciale Aielli che non seguiva le indicazioni del cronoprogramma che aveva fornito e votato il Consiglio Comunale soltanto dal marzo 2015 all'insediamento del nuovo responsabile le cose sono partite ci sono dei dati che parlano da soli nel febbraio 2015 quindi nei sei anni precedenti a questa data non era stata istruita neanche una scheda per America parte seconda per le frazioni oggi ci sono un lavoro che ha prodotto fino adesso un contributi per 45 milioni di euro ma dopo l'impasta all'orizzonte sempre secondo il Partito Democratico si profila un'uscita dal tunnel i progetti sono pronti e finanziati e già dalla prossima primavera si vedranno i risultati non neghiamo l'evidenza dei fatti perché ancora pochi cantieri oggi sono aperti nei centri storici delle frazioni ma analizzando la complessità di un processo fatto di tanti passaggi, tanti fasi e che coinvolge tanti soggetti riteniamo, dati alla mano che il lavoro che si è prodotto nell'ultimo anno e mezzo produrrà a breve un risultato che sarà evidente pure ai cittadini e che pian piano si riallinerà con quello che invece sta succedendo nel centro storico dell'Aquila dove essendo questa fase istruttoria partita molto tempo prima diciamo si trova in una situazione decisamente più avanzata per quanto riguarda i lavori in corso